Lo avevamo detto già in passato, l'appetito viene mangiando e se è vero che la Coppa Italia è una competizione che rega più disagi che vantaggi, è vero pure che una volta in gioco nessuno è disposto a tirare rimi in barca, ed anzi le sconfitte bruciano a prescindere dalla competizione in cui vengano. La regola aurea vale anche per l'Avissariano che dopo il KO subito nella gara di andata del sedicesimi di finale contro il Calpazio ribalta il risultato al Renzulli facendo proprio alla posta della partita la conseguente qualificazione. Puzio facendo pretattica aveva detto di non essere interessato alla Coppa ma alla fine aveva comunque deciso di scendere in campo con le sue carte forti con una formazione tutt'altro che di ripiego. Andare all'assalto del Calpazio sembrava essere la parola d'ordine di una squadra che trascinata dal suo capitano Santososso era costretta a vincere con tre gol di scarto per superare il turno. La missione appariva possibile dopo il successo netto soprattutto per il gioco mostrato contro la capolista del girone B dell'eccellenza il Sant'Agnello eppure la squadra iranese non riusciva a sbloccarsi facilmente. Un po' per i ritmi più bassi del solito, un po' per la buona organizzazione di gioco degli avversari, la Vissariano era costretta ad andare a riposo con un risultato di parità che faceva notevolmente diminuire le probabilità di superare il turno. La forza di volontà era però grande e proprio dopo una manciata di minuti, dopo l'avvio del secondo tempo, arrivava il vantaggio della squadra di casa. La firma era quella di Marinaccio, da diverso tempo ormai alla ricerca della soddisfazione personale premiato nella intenzione. L'1-0 però non era sufficiente, occorreva almeno pareggiare il risultato dell'andata per portare la squadra ai supplementari, ma non bastava un tempo intero per ottenere questo obiettivo. Fino a quando il capitano Santosuosso non riusciva sul calcio da fermo a sbloccare la situazione, minuto 42, quando ormai tutti avevano perso le speranze, l'Ariano centrava i tempi supplementari. Dopo il tradizionale riposo prima dell'overtime, squadra nuovamente in campo per darsi battaglia fino all'ultimo respiro. La formazione di casa costretta ad usare un atteggiamento prudenziale, un gol degli avversari sarebbe stato letale, visto che poi non sarebbe bastato nemmeno vincere per 3-1 per passare il turno. La gara si faceva dunque molto più cauta e prudente e di due tempi supplementari si archiviavano senza altre marcature, il che equivaleva a dire squadra ai calci di rigore. Come al solito, la lotteria dagli 11 metri riservava molte emozioni, con un super Federici, protagonista assoluto con ben tre parate determinanti. L'estremo difensore arianese riusciva ad ipnotizzare gli avversari che partivano dal dischetto a rendere possibile l'impresa. 6-3 il risultato finale della gara, che consente ora all'Ariano di andare avanti in Coppa, dove si giocherà gli ottavi di finale. Ovviamente, dopo questo passaggio importante per la squadra di Puzio, aumentano le possibilità di procedere. E ora che si sono superati gli ostacoli dell'inizio e che le file si assottigliano, per ciò che riguarda le squadre che restano in corsa, c'è la voglia di continuare a fare bella figura. Ma oggi è già tempo di pensare di nuovo al campionato, nel quale il calendario riserva ora la difficile trasferta contro la Nocerina. Grazie.